da oggi non ci sono più scuse per imparare l'inglese e l'idea è avvenuta a misti che è una realtà che ormai ha preso piede a napoli e che sta trovando casa proprio così tra virgolette casa anche a caserta e noi siamo con delle amiche che di caserta oggi presentano questa iniziativa anche per farsi conoscere e far conoscere a tutti questa bella iniziativa. Sono Annalisa Tirri, sono un'insegnante d'inglese e misti nasce a Napoli sei anni fa per un'esigenza di alcune mamme che avevano, volevano partire con me per l'Inghilterra per fare una vacanza studio e da un refreshment del loro inglese abbiamo deciso di comporre delle classi, delle classi che sono un po' dire classe un po' troppo altisonante, noi parliamo di case perché la peculiarità di Misti è proprio questa, quella di essere nelle case, è un inglese che si insegna nelle case appunto delle host ladies che sono delle signore che mettono a disposizione la loro casa una volta alla settimana per due ore in corsi ben inquadrati da un test d'ingresso quindi per cui ognuno appartiene alla competenza da cui ne deriva il test e di conseguenza con quelle due ore c'è una brevissima pausa di 10 minuti con Tea and Cake, ecco perché Misti. Misti quindi ho detto nasce a Napoli sei anni fa e abbiamo deciso che diventi Misti Italia. Misti è rivolta a tutti e soprattutto magari a quelle persone che non hanno mai avuto la voglia di iscriversi ad una scuola di lingua, quello che come diceva Annalisa quello che è speciale secondo me di Misti è proprio l'ambiente che si crea in casa, la possibilità di poter imparare l'inglese con le proprie amiche quindi di avere un madrelingua che è lì a disposizione nel comfort della propria casa e l'apprendimento in quel modo diventa anche più semplice e ogni traguardo raggiunto è una vittoria condivisa anche con la classe e in molti casi con le amiche quindi si viene a creare proprio una community se vogliamo che che è speciale e quindi poiché a Napoli è un progetto che è andato molto bene perché non dare la possibilità anche ad altre città per adesso in Campania e poi chissà di usufruire di questa opportunità. Sono Cristina, sono una delle due responsabili di Misti Caserta, sono contentissima insieme ad Alessandra di essere stata scelta da Annalisa, noi cureremo le relazioni tra gli insegnanti e i discenti, gli alunni, la classe, il gruppo e faremo in modo essendo noi di Caserta di essere comunque sempre presenti e sempre disponibili per chi vuole venire ad imparare l'inglese con questa realtà meravigliosa. È un metodo che funziona perché ne sono convinta, io sono un po' esperta di comunicazione perché nasco assistente sociale, mediatore familiare e effettivamente la comunicazione di Misti è una comunicazione sui generis però speciale e che entusiasma per cui sì funziona, l'apprendimento diventa naturale, diventa divertente, diventa socializzante ed è un aspetto non da poco, specialmente alla nostra età e specialmente con il desiderio di imparare di essere autonomi per andare all'estero, per andare a trovare i nostri figli dall'altra parte dell'oceano, però non è che abbiamo proprio voglia di stare sui libri, quindi trovare una modalità che ci aiuti ma che ben venga, siamo tutti felici. Consiglio di andare a visitare il nostro sito che è www.misti.it da lì capirete ancora di più quanto altro nasconde Misti perché non è solamente la classe, ci sono tante altre attività collaterali, coinvolgenti e socializzanti e poi assolutamente abbiamo una info, una mail, quindi info-misti.it dove possono richiedere le nostre informazioni e a cui verrà dato eventualmente a chi lo richiede un test, un secondo step, un test gratuitamente che noi correggeremo e per cui daremo il livello della competenza e a quel punto l'inserimento in una casa classe.